Da oggi per una settimana a Napoli si ritrovano i rappresentanti dell'Angopi, il mare diventa un'opportunità per Napoli. Un ringraziamento perché l'associazione degli ormeggiatori ha scelto Napoli per delle iniziative così importanti. La dimostrazione è che in questa città il mare è diventato strategico per lo sviluppo sotto ogni punto di vista, cantieristica, lavoro, crocieristica, vivibilità, recupero della città, rigenerazione urbana e quindi sempre di più Napoli viene colta nel suo momento di grande rilancio.